... Merda. Ho davanti a me una lettera con l'intestazione McDonald's. Le dispiacerebbe spiegarmi? C'è la confusione, non sembrava che la società avesse a che fare con McDonald's. La confusione la crea lei chiamando la sua società McDonald's Corporation. Penseranno che è tutta l'azienda, non solo l'immobiliare. E sospettiamo fortemente che sia ciò che lei spera. Hai messo gli archi di Dick sulla tua carta intestata? Questa non è la tua impresa, Ray! Mac... L'hai capito o no a questo? Mac, non ti innervosire. Noi abbiamo inventato il sistema espresso, non tu! Noi! Tu che cosa hai inventato? C'è una cosa almeno? Non c'è! Non inventerai mai niente perché tu sei una sanguisuga! Sei il maestro delle sanguisughe! Sai cos'ho inventato, Mac? Un concetto! Dammi il telefono. Io ho inventato il concetto di vittoria! Ci parlo io! Mentre voi due vi accontentavate di stare in disparte a fare i perdetti! Io me lo prendo il futuro, io voglio vincere! E non si vince rimanendo dei buoni e lagnosi babbei! Negli affari non c'è posto per gente così! Gli affari sono guerra! È cane contro cane, ratto contro natto! Se il mio avversario sta affogando, io mi avvicino e gli verso l'acqua direttamente in bocca!